Eccoci qua, buongiorno, come va ragazzi? Ancora noi, De Marini si sembra con noi, non vogliamo ancora sognare. È arrivato, guardate, dopo anni, e lo volevamo con noi, il maestro Cremonesi! Guardate che uomo! Metti le mani alla tastiera che nessuno ti ha visto mai, le tue piccole mani, che con quelle sue piccole mani cosa riesci a fare? Eccolo! Guarda, 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 anni, anni abbiamo fatto! Anni, anni! E come canta bene Cremonesi, ragazzi! Ma la mattina! Sì, dai, dai, dai! No, dai, che a te ti piacciono i call play, fai quelli dei call play che tu fai YouTube, con le vocette YouTube, anche se i wonder fa bene! Sì, ma ne fa tante! Poi soprattutto da qua, vedi, è arrivato Cremonesi, donne agli ose, guardate! Guardate, è arrivato Cremonesi, ha portato un gruppo di donne, voi da dove arrivate? No, Gruppis dei Mengoni! Ah, ma perché viene Mengoni? No, ditecelo voi! Yes, ma c'è un indirizzo sbagliato comunque! Ah, Gruppis di voi siete le Gruppis? Sono le Gruppis di Mengoni, mica le tue! Le Gruppis di Mengoni... Vai, vai! Ma Mengoni non arriva, ragazzi, noi siamo qua! Allora, attenzione, fammi fare un'intervista alle Gruppis! Fiore, c'aveva un indirizzo sbagliato! Di che? Cioè... Ma non c'è un indirizzo qua, è via Flaminia Nuova! Dove è? Ma non c'è un indirizzo! Allora, ragazzi, cremonese, ti scegli qual'era la canzone nell'attesa, vai! Qua le notizie le vediamo dopo, dai! Ma che canzone? Questi sono tutti i show che puoi... Vai, cremonese! Ma che canzone vuoi? Ma che canzone so io? Quella che ti piace a te, quella che fai tu... Silenzio totale! Chi parla? Parla! Punito! Multa! Vai, vai, John Wayne, tu conosci Coldplay, tu solo il Played conosci, vai, 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 Cremo, mezz'ora! Maturi! Fatto... No, ma veramente dall'emozione! Ma questa, sei come la fai, così? Sono contento che tu sia qua, lo sai, sono contento anch'io, carino, direttamente dalla terra di mezzo ragazzi, direttamente dalla terra di mezzo, come si sta a Narnia in sto periodo? Si sta bene, ci sono un po' di leoni in giro però, sai tu conosci i gemelli di Guidonia, nel frattempo, mengoni, notizie, niente mengoni, allora siete pronti? Sì, perché forse dovrebbe arrivare mengoni, allora tra un po' cominciamo con l'edicola, che ora è? No, abbiamo ancora dieci minuti di tempo, dopo di che cominciamo con l'edicola, nel frattempo che c'è? Che la notizia? So che hanno cacciato via Borghezio, la commentiamo quella che ha la notizia? Ah, per razzismo, come mai? Mi sembra strana la cosa, è una cosa molto strana, ma veramente, Borghezio per razzismo, Ma che sto, ti dice, non ci posso credo, ma se io Borghezio l'ho visto a cena con Carlo Conti una volta Questo mi ha fatto ridere a me, proprio da solo, a me A proposito di Carlo Conti, scusa se prendo un attimo la scena No, non dire niente di quello che stai per dire Ragazzi, no, questi, guarda, questi martelli qua, chi li ha portati? Io, io Porcello, siamo ancora in attesa, stiamo scegliendo le notizie da commentare, il dottore ci parlerà Ma anche di questo caso, di Michael Douglas, ci parlerai di questo caso Faremo un trattato dopo Perché tu sei dottore e studi proprio quella parte lì, non la parte quella, l'altra, ok Allora, a dopo, è arrivato Mengoni, vedo un taxi ragazzi, vedo un taxi e sta arrivando Mengoni Secondo me è quel taxi là, queste sono le sue fan, sono tre E no, perché a quest'ora, quante fans vuoi avere, scusa, tre A quest'ora, ma pure Michael Jackson c'aveva due fan Tranne Justin Bibier, che quello ce n'ha, miliardi anche le tre di notte, incredibile Vabbè, chiudiamo qua, Cremonesi Chiudiamo qua E dopo cominciamo con l'edicolo, ok? Ok ragazzi, questo è anteprima dell'anteprima 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 Nel frattempo ricordiamo Davide De Marinis con la canzone che me la dai, com'è? No, me la godo, inciso, inciso Me la godo qua, me la godo là, me la godo su e giù, su e giù E pure te però, eh Non c'è niente di meglio delle piccole cose Eh, me la godo qua, me la godo là, me la godo su e giù, secondo te uno a cosa pensa? Io non ho voluto dire nulla E neanche la moglie del dottore vuole dire nulla Allora, siamo pronti, a dopo ragazzi A dopo A dopo, anteprima dell'anteprima 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 Aspettando Mengoni Che se ci fa la sola, veramente gli taglio i baffi Mengoni non fa più E l'occhietto che lui muove io lo chiudo definitivamente E l'occhietto che lui muove il dottore vuole dire nulla Allora, grazie a tutti